Ciao a tutti i cazzi, siamo in tutta la parte numero 52 del Spike Samurai Concus 2 Allora, stiamo nel mezzo della Morita si chiama Quindi, continuiamo a cercare il resto del nostro party Che non vedo l'aiuto Oh, spavento Wow Non mi fa targettare l'altro Ah, ecco qua, ora si Ciao, faccio io qui al piccolino Sì, ma io muoio, muoio tantissimo Non abbiamo un healer Eh, ma senza healer, ragazzi, vogliamo andare Alla fine Allora Jin Tanka il giusto, diciamo E sinceramente lui non ha problemi di sopravvivenza Nel senso non l'ho mai visto scegliere a poca vita Tranne quando abbia combattuto con noi No, no Rex sì però Cioè, Rex implode Senza un tank Che tank è un healer che E là E tra l'altro non è che mi sembra Tanto schippabile quel Quel mostro unico A meno che tipo Tipo non lo ignori e continui a correre Caspita sta Eccoli Non è che non ci mandiamo tipo Prima Jin Vai Ok Ma perché a me? Perché target a me? Guardalo Ma ti ha attaccato Jin Bastardo Oh Tanto Jin non muore Ma quasi semi HP Ma che tankone che è? Cioè, l'hanno detto pure nei cazzi Bisogna passare di lì Però a quanto pare non è vero Io prima vedo cosa c'è qua Forse bisogna passare da qua Sì, sembrerebbe così Però allora Che cazzo Perché mi punti la telecamera lì? Ma tanto qua c'eravamo stati O non ce la voglio combattere Come se pensate Che siamo di nuovo tre in party Ma questi esattamente cosa sono? Ah proprio così Che cazzo non so sui schafferlo E auguri però Sapere di che Rex Non ce la farà mai No, ma Rex non saperebbe mai così Eeeh Ok Come si fa? Perché l'aggro lo prende automaticamente Rex Non penso che poteva giocare nei panni di Jin Oddio non ce l'ho mai provato Ma Oh Ma che davvero? Oh mio dio Dai non ce l'ho voglia di combatterti Per favore Ma non con lui Cretino Allora Attacco da dietro Aria d'effetto Ah lui è proprio una singola vita Che è a terra Lancia e schianta Ok Ok Sì ma Ci vuole un'eternità Per Per staccarle le sue abita Guardate le abita in basso Ma quanti attacchi devi fare per staccarle Eh Ok Ok però Sì vabbè ora che arriva la pozione Ok Rex ma devi rimanere con Mitra Se no non Cioè ci stanno le pozioni Sì ma sono troppi comunque Cioè non è normale Ovviamente troppi Eh non c'è se fa neanche così Ok Mentre combattiamo Mi è venuta comunque In mente Un'altra strategia Che potremmo fare Amare estremi Stemmi le medi Raga Rex se questo è l'unico modo Per farti usare Mitra Se è possibile Pum Ora vediamo se usi Mitra Ok ho vinto Ok È stata lunghissima Lunghissima come battaglia E AK è abbastanza noiosa È un'altra e adesso si però ok quindi l'alba del mondo ah ok 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 stanno riemergendo dal o stanno sembra che stia andando in profondità non riemergendo non riemergendo dal vabbè 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 sì invece ok sono venuti qui per trovare Jin io vado là il titano tornese vuole vederlo da vicino chiunque lo vorrebbe avanti andiamo con lui d'accordo quanto ancora dobbiamo aspettare prima di avere il nostro party sì mi mancano mi mancano eh va bene ok direi che adesso possiamo anche rimetterci i rex comunque e rimettendoci i rex possiamo anche rimettergli gli altri blade così sì ok ora lasciateci in pace guarda quanti guarda quanti ma che cazzo state dicendo ma dai mi fanno le combo sì ma quanti cazzo sono ma perché ne mettono così tanti Jin no dai si è bloccato vabbè bello eh eh è la buon'ora ok proviamo a farci la corsetta oriamo forse con Jin ce la faccio che è molto più tempo così rex dai veloci ok nuovo punto di riferimento perfetto ragazzi madonna ragazzi sicuro è bruttissimo sto pezzo cioè lasciarci poco tempo con rex e gina adesso ci dovete dargli altri membri del gruppo oh hm I titani sono blade trasformati? Ok 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 Il nuovo Titan Ha nessuna memoria Di sua vita come una blade Just like returning to a core Questi potevoli Ci sono morti A parte con la mia madre Compartono il suo fate Ok Io non so quanto devo tagliare sinceramente Però se puoi andare avanti Un altro paio di minutini Perché io lo sto registrando tantissimo So che devo anche tagliare tantissimo Dai che c'è un checkpoint vicino Perfetto Oddio vicino insomma Adesso i major sputano Fuori dei nemici Ecco esatto Eh questi sono difficili a schippare Ma cosa non ce l'ho neanche ingaggiato Perché Non so se bisogna andare sopra O mi sa di qua Eh no però lì è tutto distrutto Scappisci Non si capisce Quello è il nostro mostro unico immagino Zitti zitti Non ci cagano proprio a volte A posto Ok ci siamo Passaggio centrale Perfetto So che l'architettio ha chiesto per il mondo Old Torna ha chiesto questo ciclo In Old Torna, noi rieveravamo i titans, fioravamo Era la fondazione di Torna, una nazione dove gli uomini e gli uomini vivono in harmonia Ma gli uomini non potrebbero vivere così La battaglia con Mala ha scattato la fine Non era lì dopo che tu e Adam si lasciano Torna L'ho fatto L'ho fatta un uomini a Mala La prezza? Cosa ha fatto? L'ho che veramente destruì questo posto, non era l'agis Era lui Questo posto? C'è il posto sotto le mari di nuvole? Sembrava un po' troppo perfetta Intel comunque Ma non c'ho detto questa cosa Ma non c'ho detto questa cosa Wow Ok Ok Ah Purtro Ma perché? Ma Laura Uh, don't worry. If I die, you'll just go to sleep. Someone will find you or you'll wake in me. For us humans, being forgotten is a much worse fate than death. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no wow è la madonna wow si ma io non posso fare una battaglia boss ma hai rotto il cazzo Jin ma perché io ho Pyra? ma è un retratto di Mitra ma scusate scelta che affrontare il gold nel solito modo avrei difficoltà a sconfiggio mia 60 se non si attiva la forma definitiva di Pyra Mitra ok solo per questa volta riempio la barrella del gru per nulla ho il tempo di attesa così potrei attivare la forma definitiva e combattere le migliori condizioni ma che gentile ok no ale eccola qua quanto veloce quanto veloce GD Piat l'agro ok 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 micchia Jin come fai schifo tu a prendere l'agro mamma mia mi sa per finire l'altra trasformazione oh ho vinto questa parte stava durando tipo 40 minuti che polle ah proprio così via più vicini così wow wow no finalmente manca Morag però manca Morag ok ah no ecco lì non si vedeva oh finalmente siamo tutti alleluia allora eh io vorrei usare la mia come Blade in teoria però vabbè eh però Brigitte ce l'ho io vabbè sti cazzi usarei Gion ecco perché hanno dato Gion come no aspetta non è obbligatorio Gion però cioè è obbligatorio prenderlo ma non evocarlo se a questo punto il gioco Morag non avesse avuto nessun Blade perché in teoria è possibile arrivare qui senza evocarlo Gion ok oh mi pensavo fosse così veloce che strano usare Brigitte con Rex ok mamma mia fa malissimo Wolfreak si è mancato ok mamma no ma è fortissimo a livello 60 è troppo alto per noi no no niente vabbè sta run è andata perché ho tutti i Blade a caso adesso ci ci lasceranno riorganizzarci immagino mettonia come Blade Doc oh finalmente allora vabbè intanto posso chiudere qui la parte numero 51 del Let's Play X on Black Concoast 2 se vi è piaciuto che avete piaciuto salto e vi saluto ci vediamo alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti